In un mondo in continua evoluzione, l'accesso a tecnologie all'avanguardia, come intelligenza artificiale e IoT, rimane un labirinto confuso. Troppa scelta, costi elevati e lunghi tempi decisionali ne frenano l'adozione. Siamo davanti a un enorme potenziale inutilizzato, ma non riusciamo ad accedervi. Finora è mancata una chiave in grado di aprire quella porta. Una tecnologia e un network che possa dare accesso a un futuro di opportunità per essere protagonisti del mercato internazionale. Ma oggi, finalmente, è possibile. Mexidia On, la piattaforma integrata che segna una nuova era. Una suite completa che permette di scegliere soluzioni modulari in tre ambiti. Omnichannel, per una gestione coerente delle comunicazioni. Business Automation, ottimizzando tempo e risorse, eliminandoli attività a basso valore aggiunto. Business Intelligence, per prendere decisioni informate con un pieno controllo dei dati. Mexidia On è progettata per le realtà che cercano soluzioni altamente innovative e facilmente integrabili. Modelli AI, sistemi IoT e canali non convenzionali come realtà virtuale e realtà aumentata. A differenza delle altre piattaforme, è progettata come una super app. Integra alla perfezione app esterne. Soluzioni API e app proprietarie presenti sul Mexidia On App Store. Mini app che permettono di integrare prodotti estremamente complessi in pochi minuti. Grazie a Mexidia On, l'adozione di tecnologie innovative diviene semplice realtà, sia per le aziende strutturate, sia per le imprese o start-up che intendono avviare nuove linee di business, partendo da zero. Richiedi una demo gratuita.